Giulia, ciao, finalmente incontro la viaggiatrice dei cimiteri in questo periodo che siamo tutti abbastanza chiusi, tutti abbastanza isolati, ma tu com'è che ti, dopo parliamo un po' di quello fa, mi interessa una prima domanda, come ti definisci tu? Io mi definisco, bella questa domanda, non me l'ha mai fatta nessuno, mi definisco un'esploratrice di cimiteri, una cacciatrice di cimiteri, perché io ritengo che quando viaggio mi piace scoprire quanto più possibile della cultura che sto scoprendo e secondo me vedere il cimitero dice tantissimo, perché dice tanto del rapporto che quella cultura ha con la morte e di conseguenza anche del rapporto che ha con la vita. Quindi io quando viaggio, ovviamente adesso è da un po' che non viaggio più, però quando viaggio la prima cosa che, una delle prime cose che vado a visitare è sempre il o i cimiteri. Tu sei partita da casa tua, da Venezia, il primo podcast che hai fatto è quello? Sì, sì, io sono partita da Venezia, anche se quello non è stato il primo cimitero che ho visitato naturalmente, perché io da che ne ho memoria ho sempre visitato cimiteri da sola. Come ti è venuta questa idea? Nel senso, è una passione? Sì, questa è una domanda difficile che mi hanno fatto in molti, perché io in realtà non so quando mi è venuta questa passione. Io posso dire che ce l'ho sempre avuta, perché quando ero piccola mi ricordo che magari accompagnavo, sai, in cimitero mia nonna, così, e io ero molto curiosa, facevo domande, guardavo le tombe delle altre persone, mi immaginavo la loro vita, guardavo le date, facevo il calco di quanti anni potevano avere. Quindi forse sono nata così e poi la passione l'ho fatta diventare un lavoro, diciamo, e l'ho intrecciata ad altri miei interessi e alla fine è nato questo podcast Camposanto. Beh, i tuoi podcast sono fighissimi, cioè tu parti, esci, parli di tragedie fondamentalmente, perché sono, insomma, a me cimiteri di solito non ci sono delle feste, a parte dove è a Key West e che hai trovato delle persone che festeggiavano nel... C'era una festa di compleanno in corso, ancora molto strano se ci penso, però... Ma è una festa di compleanno per il morto o per qualcuno che... Allora, ovviamente non mi sono avvicinata a chiedere perché volevo tenermi a distanza, a debito a distanza e rispettare anche quello che stava succedendo. Quello che ho visto io, ho sentito, anzi, prima di vedere, è stata la canzone, no? Happy birthday to you, poi mi sono... ho guardato bene, ho visto che c'era una tomba che era stata addobbata proprio con i festoni di compleanno. C'erano... allora a Key West, in Florida, i cimiteri, siccome ci sono spesso inondazioni, i cimiteri hanno le tombe al di fuori del terreno, cioè hanno come dei cubi di cemento dove sono contenute le bare, altrimenti vanno sott'acqua quando ci sono le inondazioni. Quindi c'era questo grande cubo, no? Con dei ragazzi seduti sopra, con una torta, i festoni. Poi ho aspettato che finisse, sono andata a vedere dopo e guardando le date dei defunti, ho pensato che potesse essere un amico di quei ragazzi, perché le date coincidevano più o meno, mostravano un morto giovane, ecco. Beh, se erano messicani, loro hanno proprio il culto, la festa della morte, quella che ne facciamo il 31 ottobre. Sì, sì, no, no, in questo caso non credo fossero messicani, credo fossero americani, ma comunque sì, sicuramente ho assistito a un modo di vivere la morte diverso da quello a cui siamo abituati, perché sicuramente in Italia, in un cimitero, se qualcuno si mette a cantare tanti auguri a te, come minimo chiamano i carabinieri, quindi sicuramente è stato interessante vedere questa cosa, ecco. Ma poi tu, allora io mi sono ascoltato non tutto, però una buona parte di tutti i tuoi podcast, anche perché, allora, ieri nella foga di ascoltare, insomma in visione per prepararmi in questa intervista, ne ho ascoltati 4 o 5 di fila, mamma mia, a parte che mi viene la pelle d'oca, quando, ma proprio riesci, non lo so, riesci a dare delle emozioni, proprio come esserci là, è come per me, è come vedere la fotografia di quello che stai descrivendo, ed è fantastico, cioè tu, sono podcast abbastanza brevi, perché sono 15, 20 minuti, 10 minuti, insomma non sono lunghissimi. Dipende, sì. Gli ultimi sono pochi minuti, dopo parleremo anche di lapidario, perché è interessante, però riesci proprio a far entrare chi ti ascolta nell'ambiente, a viaggiare con te, ad essere lì nel posto dove sei, anche perché è proprio un, questo sicuramente è la tua professione, insomma poi lo fai volontariamente, però è un continuo salire e scendere di emozioni, e poi cambi il punto di vista di chi ascolta, da curiosità, dopo li riporti all'interno del cimitero, magari racconti una storia parallela, ed è fighissima questa cosa qua. Grazie. Ieri dopo 4 o 5, però è un po' troppo, ho detto, e qui insomma sto, diciamo le emozioni sono decisamente... alte, e quindi pausa. Sì, ci sta, ci sta. Però è veramente figo, ma poi una cosa che mi stupisce di te, cioè che mi stupisce, che mi, che vorrei chiederti, è che tu hai paura dei cadaveri, hai paura dei posti chiusi, hai paura della morte, e come hai scelto di raccontare i cimiteri? Bella domanda. Allora, io comunque, come dico sempre, io sono molto attratta da quello che c'è sopra e fuori, e molto spaventata da quello che c'è sotto e dentro. Nel senso che il mio podcast non è nato per un mio interesse riguardante la tanatoestetica, o il mondo... Che c'è un posto al poi dedicato a una tanatristetta, che è interessantissima. Sì, sì, esatto. Io fondamentalmente sono interessata, sono attratta dalle storie, quindi ritengo che i cimiteri non siano luoghi per i morti, ma siano luoghi per i vivi, perché alla fine se ci pensi è così. Quindi, quando io vado a vedere un cimitero, in realtà quello che voglio andare a cercare, oltre alla bellezza di certe tombe, di certe architetture, che però non è il mio interesse principale, io sono proprio alla ricerca di storie che in qualche modo colpiscono la mia attenzione, delle quali poi decido di parlare anche storie sconosciute, dove sono proprio io a fare le ricerche e a riportarle a galla. Vedo che poi vai nelle biblioteche, vai negli archivi, cerchi. Sì, sì, nei bei tempi in cui non c'era ancora la pandemia, era un continuo ricercare, visitare biblioteche, intervistare, eccetera, eccetera. Adesso ovviamente è un po' diverso, ma si fa quel che si può. Certo, ma tu quando, allora, diciamo, quello che mi ha affascinato di te, anche perché hai un modo di viaggiare, un modo di conoscere molto simile a quello che faccio io, insomma. Io ti ho conosciuta nel momento che stavo scoprendo, io ho fatto, io sono uomo di Mosca, sono a Mosca, e ho fatto delle camminate in giro per la città, e camminando si incontrano tantissimi cimiteri. Eh sì. E soprattutto in città così grandi, insomma, poi sono cimiteri enormi. E quello che mi ha stupito dei cimiteri qua, che sono fondamentalmente dei boschi. Ma se tu vai nei cimiteri per dire anglosassone, inglesi, sono molto aglieggiati. Invece qui sono proprio boschi. Cioè, hanno, ci sono, letto un bel interno della foresta. Sì, sì, è un modo, ecco perché ti dicevo, è interessante vedere come nelle varie parti del mondo i cimiteri vengono organizzati, perché anche questa è una sfaccettatura della stessa cosa. Se pensi, in Italia i cimiteri sono molto ordinati, sembra quasi a volte, perdonami il termine, che ci sia una gara a chi ha la tomba più bella, no? Perché sembra quasi che si voglia continuare a fare bella figura, a mantenere un'immagine, a mantenere un decoro anche dopo la morte. Invece anche, per esempio, nei cimiteri tedeschi, io ho vissuto tanti anni a Berlino, si vede come non solo la dimensione della morte è inserita nella dimensione della vita, perché comunque i cimiteri vengono proprio vissuti, no? Vengono visitati in modo diverso da quello che viene invece adottato in Italia. Ma poi anche sono proprio, come dici tu, sono più selvaggi, sono più naturali, ecco. Secondo me questo è molto bello, sicuramente è un altro modo di vivere le cose ed è, secondo me, interessante scoprirli tutti alla fine, perché io ho visitato cimiteri in tutto il mondo e in ogni cimiterio ho trovato delle differenze, ma ti dirò di più anche in Italia, nei cimiteri, ad esempio, di montagna, delle Dolomiti, in cimiteri che distano tra di loro magari anche 20 chilometri ci sono delle differenze sostanziali. Quindi, cioè, è uno studio antropologico fatto da un altro punto di vista che ovviamente a me interessa tantissimo. Se potessi fare una mappa di tutti i cimiteri del mondo, lo farei. Beh, tu racconti nel posto di Zoldo, se non sbaglio, che è il luogo della tua infanzia, che però non l'avevi mai visto attraverso il cimitero, da quello che ho capito. No, no, infatti io, allora, quelli erano i luoghi dove io andavo in montagna quando ero piccola, i cimiteri sì, erano sempre lì, ma non è che li avessi mai studiati. E quest'estate sono tornata in vacanza lì e ho avuto modo di visitare questo cimitero abbandonato, che era anche il mio primo cimitero abbandonato proprio della mia, tra virgolette, carriera di cacciatrice di cimiteri. Ed è stata un'esperienza assolutamente fantastica perché il cimitero abbandonato è su un altro livello. Cioè, se mai ti dovesse capitare di trovare un cimitero abbandonato, vacci subito perché è proprio, è un altro mondo. Sì, sì, beh, sono atmosfere, soprattutto in una giornata come quella che stai vivendo oggi, anche la tua con il temporale, l'appoggio. Io consiglio sempre, se c'è il temporale, non andate a vedere cimiteri perché alla fine la visita non sarà piacevole, ve lo assicuro. Ma poi una frase che mi sono segnato nei tuoi podcast è che tu dici di divertirsi da morire. Sono chicche, sono perle che tu inserisci all'interno che sono figate, insomma. Sì, ma perché io cerco anche di raccontarli in modo molto ironico. Cioè, io non voglio sposare quel atteggiamento che ci si aspetta. Uno dovrebbe avere nel visitare i cimiteri, c'è un atteggiamento, sai, un po' tetro, triste. Certo. Cioè, io voglio, io sono una fan della massima. I cimiteri sono luoghi per i vivi e non per i morti. Sono luoghi pieni di storie da raccontare, sono come dei libri. Quindi non ci si può andare solo tristi. Bisogna anche andarci con uno spirito curioso e aperto a tutto quello che si può trovare. Sì, ma infatti tu quando ascolti i tuoi podcaster, comunque tu usi un tono di voce, una velocità, un modo di parlare che calma proprio le persone, le mette proprio agio e tranquilla. Poi racconti tragedie, racconti storie incredibili. E quindi c'è anche questo contrasto che affascina, perché tu ascolti una persona che ti sta parlando in modo assolutamente pacato e tranquillo e ti dà proprio questa sensazione, però poi l'oggetto di cui si sta parlando è, diciamo, che non trasmette tranquillità. Dipende, dipende. Ma poi così, ascoltando i tuoi podcaster, adesso te la chiedo, io mi sono fatto la mia idea, però voglio chiedertelo. Ma tu decidi prima cosa andare a vedere un cimitero oppure le storie nascono quando sei all'interno del cimitero? Dipende. Allora io di solito prima di andare a visitare un cimitero mi preparo un po', perché in passato, cioè sbagliando si impara, no? In passato mi è capitato magari di andare a visitare dei cimiteri enormi, sapendo che volevo vedere determinate cose e non riuscendole a trovare perché non mi ero preparata. Quindi mi è capitato di dover tornare a casa senza aver visto niente di quello che stavo cercando. Quindi da quelle volte lì ho imparato a prepararmi, quindi ad esempio se so che sto andando a visitare un cimitero molto grande e che voglio vedere le tombe di un personaggio famoso che ha seppellito lì, allora so che mi devo preparare e so già quello che vorrò andare a vedere. Ad esempio l'estate scorsa sono andata al cimitero monumentale di Treviso, dove non ero mai stata, in cerca della tomba, di due tombe. Una dello scrittore, anzi ero in cerca di una tomba dello scrittore comisso, non sapevo assolutamente dove si trovava, ho dovuto chiedere in giro, era una situazione assolutamente di disagio perché faceva un caldo tremendo, ero divorata dalle zanzare, volevo rimanere lì a vedere le tombe, ma stavo malissimo. Chiedevo in giro, nessuno sapeva indicarmi con precisione, alla fine per fortuna il padrone del chiosco di fiori fuori dal cimitero mi ha dato delle indicazioni, sono riuscita a trovarle. Poi sono tornata a casa e ho scoperto che nello stesso cimitero c'era sepolto un famoso medium degli anni 60, avrei voluto vedere anche la sua tomba, ma non ero preparata, non lo sapevo prima e quindi non ho potuto vederla. Quindi per rispondere alla tua domanda, di solito mi preparo, se so già che ci sono delle cose da vedere, però è molto probabile che io in un cimitero in realtà stia andando solo per dare un'occhiata e che poi trovi lì una storia che mi interessa. Mi è capitato ad esempio a Berlino di essere andata in un cimitero per vedere la tomba di Nico dei Velvet Underground e di aver scoperto una storia. Quella è fantastica, quella storia è fantastica, è veribile la storia, ma è fantastica. Io mi immagino te a cercare nei microfilm in tedesco. Cioè è stata un'esperienza catartica, però è così. Cioè alla fine io mi sono trovata l'estate scorse anche ad esempio a visitare il cimitero della mia città che è San Dona di Piave, in provincia di Venezia, che avevo sempre visitato da piccola per altri motivi, ma l'ho voluto visitare da turista, diciamo, e ho trovato un sacco di storie, no? Che avevo sempre sottovalutato. Quindi dipende anche dallo spirito che si ha quando si entra nel cancello del cimitero. Beh, hai avuto anche un'esperienza che probabilmente non è mai avvenuta. Quella che dici del custode, controllore del cimitero, che tu volevi andare a vedere la tomba. Adesso ti do degli indizi, però voglio che poi lo racconti tu che ti ha fatto una domanda. Sì, beh, è avvenuta davvero. Non dirò dove si trova la tomba perché sono, ovviamente, cioè, rispetto il volere della defunta che stavo cercando. Sì, sostanzialmente, quando sono andata al cimitero Staglieno per vedere la tomba di... Cioè, volevo vedere il cimitero, vedere tante cose. Non ero preparata, non sapevo cosa stavo cercando, non sapevo... Cioè, non mi aspettavo quell'immensità di cimitero, onestamente. Non avevo studiato. Volevo cercare la tomba di Fernanda Pivano, ero riuscita vagamente a capire dove si trovava, ma non riuscivo a collocarla, non riuscivo a trovarla. Allora ho chiesto a un custode, a un guardiano, adesso non so più, era lì che sistemava delle cose, gli ho chiesto, mi dica dov'è, e lui mi ha fatto delle domande perché siccome Fernanda Pivano aveva lasciato detto che non voleva che la sua tomba diventasse meta di pellegrinaggio dei suoi fan, diciamo, lui voleva sapere se io ero una che voleva fare la foto così tanto per dire l'ho fatta, oppure voleva vedere se ero realmente appassionata di Fernanda Pivano. Ovviamente, essendo io una grande appassionata di Fernanda Pivano, ho superato il suo test, che poi, test per modo di dire, mi ha fatto un paio di domande e la tomba la sono riuscita a vederla, però non dirò mai dove si trova perché anche voi dovrete superare il test del guardiano. Ti poi bisogna vedere se il guardiano fa sempre le stesse domande e quindi abbiamo le risposte. Chi lo sa, io sono stata fortunata perché mi ha fatto delle domande su Spoon River, che è uno dei miei libri preferiti, di cui Fernanda Pivano ha scritto la prima traduzione italiana, quindi sono stata fortunata, però chi lo sa. Però è interessante questo custode che comunque ha sposato la causa di difesa della tomba. Ma è una cosa molto comune in realtà perché i custodi dei cimiteri, se tu ci pensi, sono quelli che sono un po' gli accompagnatori, i caronti, i caronti dei vivi nel mondo dei morti e lui probabilmente, cioè ci sono delle regole non scritte che si devono rispettare in un cimitero e nel caso di Fernanda Pivano ovviamente se lei ha lasciato detto io non voglio che la mia tomba diventi una meta di pellegrinaggio, io capisco benissimo perché il guardiano sposava questa regola. Tra l'altro davanti alla tomba di Fernanda Pivano c'era un grandissimo mazzo di fiori quindi anche volendo, anche avessi saputo la collocazione precisa avrei dovuto spostarlo quindi era proprio veramente nascosta e quindi è tutto fatto così, è tutto fatto in modo che sia difficile da trovare e io non dirò mai dove si trova perché è giusto anche io sono adesso sono una adepta della setta degli adoratori di Spoon River ovviamente. Conosci il segreto, conosci esatto ma poi un'altra cosa che mi ha affascinato di te che tu dici che hai paura a parlare con gli sconosciuti comunque ti crea agitazione ma fai podcast allora intanto nel podcast mentre parlo non mi vede nessuno e quindi io parlo davanti a un microfono sono da sola poi se mi ascoltate io non ho nessun problema a farmi ascoltare io ho il problema a parlare di fronte a un pubblico nel senso non un problema l'ho fatto ma non è il mio passatempo preferito per quanto riguarda rivolgere la parola agli sconosciuti essendo una persona un po' da questo punto di vista un po' introversa è uno sforzo che devo fare cioè a me nel senso a me piace la solitudine ovviamente in caso di necessità devo chiedere al guardiano del cimitero andrò a chiedergli informazioni non è che mi faccio problemi certo no ma sono veramente sono tutte storie sono tutte perle questi podcast che fai che sono sono entusiasmanti grazie grazie poi io adesso ti chiedo come è diventato questo podcast lapidario allora io ho concluso tre stagioni di Camposanto che è il podcast principale no io ho bisogno ovviamente tra una stagione e l'altra di un po' di tempo sia per ricaricarmi mentalmente perché comunque fare scrivere quelle puntate registrare io faccio tutto da sola quindi è un uno sforzo che mi che mi impegna tanto c'è un lavoro immenso dietro ogni tuo podcast perché al di là di andare e vedere ricercare tu scegli la storia ricerchi magari trovi qualcosa quindi cerchi questa storia che ti hanno incuriosito e poi il montaggio sì gli effetti audio che metti sotto sotto la tua voce cioè quando li ascolti boom pelle d'oca cioè è proprio non so il tutto il montato ma sia la costruzione diciamo della tua storia perché tu porti il visitatore all'interno della storia poi lo porti fuori e gli fai ascoltare un'altra cosa poi boom lo riporti dentro ed è è fantastica proprio anche la costruzione di questa cosa sono mediamente 20 minuti Camposanto sì dipende sì sì ma diciamo una media di 15-20 minuti ci sono episodi più lunghi ovviamente ma anche alcuni più brevi quindi direi così comunque dicevo che ho finito la terza stagione mi ero ripromessa di prendermi qualche settimana di pausa come faccio sempre per scrivere per scrivere la nuova stagione per decidere il calendario editoriale poi come ho scritto ieri nella mia newsletter mi è venuto un attacco di cimiterite che mi sono autodiagnosticata e avevo voglia di registrare ancora avevo voglia di scrivere e raccontare ancora storie allora ho raccolto le storie che avevano in qualche modo a che fare con cimiteri morti e tombe però non erano riuscite a entrare nel podcast principale perché o perché magari avevo visitato il cimitero molto di fretta come è accaduto con lo staglieno di Genova oppure perché magari erano storie che non erano veramente accadute in un cimitero come nel caso del soldato neozelandese quindi ho detto sai cosa queste storie qui sono molto belle è un peccato non raccontarle allora ho fatto questo spin off che si chiama Lapidario ho voluto fare il gioco di parole tra Lapidario e Lapide ovviamente per dire che si parla sempre di tombe ma se ne parla in modo più conciso più Lapidario e infatti questi episodi durano 5-6 minuti l'uno e proprio raccontano una storia molto breve di come dicevo prima di qualcosa che forse è accaduto in un cimitero forse no forse ha a che fare con qualcosa quest'aria di mistero che sempre lasci sì 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 cioè dipende dipende appunto da che storia è però cerco di farlo uscire tutti i giorni anche se non sempre ci riesco però diciamo almeno due o tre volte alla settimana per adesso c'è finché non non ricomincio la nuova stagione di Camposanto che non ho ancora cioè più o meno è scritta ma non ho ancora previsto quando inizierà dipende da altre cose e poi sto anche lavorando a un nuovo podcast di cui però non dirò nulla per ora ottimo fantastico ma poi una cosa tu all'inizio nei primi episodi comunque descrivi te stessa sì soprattutto sì perché mi piace anche un po' sì sì infatti è una cosa interessante perché comunque ti mette più in contatto con l'ascoltatore sa chi sei e una cosa una frase che mi è rimasta e dici io ti parlo di quello che voglio sì sostanzialmente è così questa questa frase dà proprio l'idea della tua personalità che tu scegli quello che vuoi fare sì guarda allora io quando ho iniziato questo podcast ho sorprendentemente devo dire ho iniziato ad avere un pubblico molto nutrito che segue le storie dei cimiteri ti dico sorprendentemente perché quando io l'ho iniziato l'ho iniziato proprio come cosa personale essendo appassionata dei cimiteri e mi ero detta guarda ci saranno pensavo di essere io molto strana perché avevo avuto queste reazioni di solito dalle persone intorno a me non avevo conosciuto tanti appassionati di cimiteri ma anch'io scusa quando io dico che ti ascolto mi dicono ma cos'hai di strano è infatti solo ascoltarti neanche da andare che mi ascolteranno quei tre quattro matti come me e via vabbè io lo faccio perché mi piace e invece il podcast ha avuto un successo veramente per me straordinario tanto da portarmi anche ad altri progetti collaterali e di conseguenza quando quando le persone mi scrivono per dirmi che bello di qua ho visto ho ascoltato questo questo cimitero l'ho visto anch'io in tanti mi suggeriscono o mi chiedono di parlare di cimiteri allora io dico sempre no nel senso a parte che ho il mio quadro in mente io potrei andare avanti a parlare di cimiteri per anni perché ne ho visti tantissimi ma a parte questo a parte gli scherzi io primo parlo solo di cimiteri che ho visto personalmente tranne rari casi perché ad esempio il cimitero di Spoon River che in realtà non esiste cioè è ispirato a un cimitero reale io non l'ho visitato ma l'ho raccontato ugualmente in uno dei miei episodi grazie a un'intervista che ho fatto a una ragazza che c'è stata quindi in quel caso sì indiettamente esatto altrimenti io non non ne parlo se non le ho viste in prima persona oppure se anche se le ho viste ad esempio sono stata sia allo Staglieno che al cimitero monumentale che sono assieme al Verano di Roma i tre cimiteri che mi chiedono di più però al Verano di Roma non sono mai stata ammetto grande vergogna ma ci andrò prima o poi il monumentale lo Staglieno li ho visti ma è stata una visita così veloce e così poco programmata che davvero non me la sento non voglio scrivere un episodio tanto per farlo per dire ok è un tech Milano fatto quindi come io dico sempre parlo di quello che voglio nel senso che quando sono pronta a parlare di un determinato cimitero state sicuri che ne parlerò e poi c'è anche un po' di ansia da prestazione perché parlare di cimiteri come lo Staglieno il monumentale il Verano è sicuramente sono conosciuti da tante persone quindi dare anche la mia versione la mia impressione mi agita un po' però lo farò però tu spesso vai a cercare il dettaglio perché tu parti sempre dalla cosa famosa sì ma sai perché perché magari poi vado al monumentale e non parlo della tomba di Manzoni esatto e questo è interessante capisci io magari parlo della tomba in un angolo con i fiori secchi perché scopro che cioè capisci quindi è anche è anche per questo che a volte aspetto perché io il monumentale di Milano l'ho visto mi è piaciuto tantissimo però l'ho visto avevo un'ora di tempo non posso non è una città è non cioè ho visto sono andata a vedere le tombe famose giusto per dire l'ho fatto mi ero ripromessa di tornarci poi non ho più avuto occasioni quindi sicuramente appena adesso ci si potrà muovere più liberamente lo visiterò di nuovo promesso beh poi i tuoi podcast penso che abbiano successo anche perché hai un contenuto importante fatto te ma c'è anche la forma cioè tu sei una professionista da questo punto di vista quindi la qualità dell'audio la qualità del montaggio la qualità di tutto il podcast come montato ma anche del racconto proprio della storia di per sé si vede che non è una persona che insomma si è inventata così insomma è come leggere un libro sai ci sono quei libri che non riesci a staccarti no? che ti appiccicano le pagine tu vuoi andare dopo 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 erano uguali sono anche i tuoi podcast insomma si vede che c'è un lavoro importante dietro questa cosa ma io avevo una domanda da fargli tu quando tu sei andata a Capri sei andata al cimitero sei andata a Key West sei andata al cimitero no diciamo che inserisco la visita al cimitero in una visita più ampia non vado solo nei cimiteri certo certo ma quando tu adesso io non so tu viaggi da sola o viaggi in coppia in compagnia in gruppo generalmente io viaggio i viaggi grossi viaggi che ho fatto l'ho fatto con mio marito Alessio che spesso nomino nel mio podcast perché mi accompagna a vedere i cimiteri io dico sempre che è il mio assistente anche se lui non è proprio contento di questo ruolo che gli ho affidato no scherzo in realtà mi aiuta moltissimo perché anche lui è un grande appassionato dei cimiteri ah ecco c'è il motivo sì 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 mi aiuta a preparare le visite e spesso mi aiuta anche nelle esplorazioni ad esempio nel cimitero di Alleghe dove io ero alla ricerca di una specifica tomba il cimitero non è molto grande quindi ci siamo divisi perché dovevamo vederne una per una e l'ha trovata lui quindi per dire siamo proprio in questo collaboratori stretti e io viaggio sempre con lui di solito sì oppure mi è capitato di vedere dei cimiteri da sola ma generalmente no ecco un consiglio che io do perché tanti mi chiedono dammi un consiglio per visitare i cimiteri allora se ti fa paura andare da solo o da sola vai in compagnia però meglio soli che mal accompagnati nel senso che non c'è niente di peggio di andare a visitare un cimitero con qualcuno che magari non ha fretta o ha fretta che sta lì così e aspetta che ti abbia finito no questo non si fa piuttosto andate da soli perché nei cimiteri veramente non c'è niente di cui aver paura e se lo dico io sì poi ognuno ha i suoi tempi e vanno rispettati anche i tuoi tempi no io sono capace di stare tre ore davanti a una tomba perché mi copio il testo e voglio faccio un disegno per poi cioè capisci certo sì sì e beh hai i tuoi tempi per poi esatto ma quello poi è anche il piacere cioè quello è esattamente il piacere di andare ma dov'è che ci si può ascoltare perché non tutti lo sanno quindi dov'è che ti possono trovare tutte le tue storie allora beh ovunque nel senso che mi potete trovare su tutti i canali e su tutte le piattaforme in cui si possono ascoltare podcast in streaming quindi Spreaker Spotify Apple Podcast Google come Camposanto Camposanto anche come Lapidario è tutto insieme oppure potete andare nel mio sito camposantopodcast.com dove non solo ci sono gli episodi ma ci sono anche le trascrizioni degli episodi e ci sono anche dei materiali aggiuntivi come fotografie mappe documenti ad esempio non lo so articoli di giornale ricopiati e via dicendo oppure mi potete anche seguire nei miei social io sono su Instagram oltre ad aggiornare chi mi segue con gli episodi di Camposanto e Lapidario metto spesso anche foto di cimiteri che visito o che ho visitato quindi è sempre tutto anche su Instagram sempre come Camposanto no su Instagram sono Giulia Depentor però se scrivete Camposanto podcast penso mi troverete in qualche hashtag e se qualcuno volesse offriti un caffè allora grazie innanzitutto per l'offerta sì io ho attivato un account di Ko-fi che è una piattaforma di crowdfunding dove se volete sostenere il mio progetto potete appunto offrirmi un caffè virtuale recentemente ho anche lanciato un piccolo shop dove troverete oltre a un libro che ho scritto qualche anno fa troverete le magliette di Camposanto con un'illustrazione bellissima fatta da Laura Angelucci che è un'illustratrice di Roma e anche troverete le borse di tela le tote bag con il logo di Camposanto che è stato disegnato da un'altra bravissima illustratrice che si chiama Elena Lombardi sempre sul tuo sito no questo su Ko-fi purtroppo purtroppo barra per fortuna le shopper al momento sono in sold out quindi davvero che sono andate a Ruba sì sono molto felice di questo anche sorpresa però potete acquistare le magliette che sono in pre-order fino al 15 maggio bello bello 15 maggio adesso adesso quindi sì mancano un paio di settimane sto raccogliendo gli ordini per poi produrle tutte insieme sì poi sotto nella descrizione qua troverete tutti i link di riferimento al sito al Ko-fi a tutto così potete andare direttamente Giulia noi siamo in conclusione vuoi dirci qualcosa che non ti ho chiesto non so c'è qualche aneddoto che vuoi raccontarci non ti chiedo anticipazioni perché non ce le dai allora io vorrei concludere con un augurio ecco sembro sembro il presidente della repubblica nel messaggio di fine anno vorrei concludere con un augurio questa intervista no allora vorrei dire che allora intanto io sono molto felice per tutte le persone che mi ascoltano perché ho scoperto che ci sono tantissimi amanti di cimiteri come Mara e questo mi riempie di gioia e mi rassicura anche un po' perché allora non sono poi così strana in questa mia passione no però io il mio augurio è anche che chi non c'è stato anche chi mi ha scritto guarda io purtroppo i cimiteri no c'è stato anche chi ha interrotto mi ha tolto dai social perché non ha piacere di vedere foto di tombe ci sta quello che voglio dire io è ricordatevi che i cimiteri sono luoghi per i vivi e non luoghi per i morti i morti non gli interessa molto no i morti sono morti cioè come ha detto un comico mi sembra fosse Ricky Gervais lui ha detto la morte alla fine è un problema che riguarda gli altri non quelli che muoiono che quelli sono morti ormai certo i cimiteri secondo me sono luoghi bellissimi dove si possono trovare delle storie incredibili sono sottovalutati secondo me perché spesso sono connessi a un'idea di tristezza lutto ovviamente tetraggine però in realtà sono luoghi piani di vita secondo me e il mio augurio quindi è che anche grazie al mio podcast ci si possa un po' avvicinare a questo mondo si possa magari anche avere meno paura dei cimiteri e della morte e si possano vivere i cimiteri con più serenità e con curiosità quindi questo è quello che vorrei dire ed è il motivo per cui io continuo a raccontare le mie storie bello bello sono interessantissime e si adesso come lo fai ricordare effettivamente Alessio ti ha aiutato nella a canna adesso i nomi ma annaggia me ne dimentico nella cripta dei cappuccini mi è stato fondamentale siccome io sono lo dico stesso in ipotesi ho paura dei cadaveri e di tutte quelle robe claustrofobica paura dei cadaveri se andate in una catacomba la cripta io non sapevo che era così angusta però che poi non è neanche tanto angusta per dire la verità è che è sottoterra e ci sono tutti tutte le muri che si combono ma l'ho visitata perché avevo paura di che mi cadessero addosso cose l'ho visitata tenendo lui camminava e io mi ero aggrappata dietro e guardavo sai come quando si guardano i film dell'orrore con le mani così l'ho guardata così velocemente perché avevo un po' di ansia quindi bello 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 quindi ricordiamo ancora una volta il tuo sito che è allora il mio sito è camposantopodcast.com ma mi trovate su tutti i social con Giulia De Pentor oppure scrivendo camposantopodcast come hashtag ecco perfetto Giulia grazie mille grazie di questa chiacchierata e non so buon viaggio buona camminata come ti auguro buona esplorazione speriamo prima possibile perché ho una lista di cimiteri io dovevo l'estate scorsa dovevo iniziare quello che io chiamo un cimitour in giro per l'Italia perché ho veramente una lista di cimiteri di tombe da vedere che non finisce più cioè se inizio domani finisco nel 2050 è interessantissimo e quindi spero veramente al più presto di poter ripartire perché ho un sacco di cose in programma un sacco di cimiteri da vedere di iniziative di eventi che veramente sto schiumando nell'attesa rimaniamo in attesa rimaniamo in attesa di tutte queste novità speriamo presto dai va bene grazie mille grazie a te e vi saluto ciao 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 a tutti ciao ciao